Sempre più meta preferita dai turisti, Napoli risponde al gradimento dimostrato migliorando l'ospitalità e l'offerta dei servizi. In collaborazione con la protezione civile, l'assessorato alla cultura e turismo del comune mette in campo giovani volontari per accogliere i visitatori al loro arrivo in città. Saranno riconoscibili da una pettorina con la scritta Welcome to Naples che riprende nei colori il logo del comune e presenti lungo i principali itinerari turistici per fornire informazioni, assistenza e segnalare eventuali criticità agli uffici competenti. Per fortuna la città in questo momento è in piena ripresa turistica quindi cerchiamo anche di migliorare i nostri servizi e di supportare i nostri operatori. Facciamo un ulteriore passo in avanti in quella strategia che noi definiamo turismo siamo tutti, cioè dobbiamo tutti, tutta la città, tutte le principali forze civili, culturali, gli operatori ma soprattutto la cittadinanza coralmente sempre di più essere una città ospitale. La protezione civile selezionerà ogni giorno più di 50 volontari e di 18 associazioni che affiancheranno il loro operato a quello svolto da guide e accompagnatori turistici. Ci siamo preparati con una motivazione, dare il meglio, far sentire il turista a cassa, fargli capire che se magari viene da Parigi non c'è niente differente con la nostra città, anzi lui è un compagno nostro, è un nostro fratello, quindi noi oltre ad avere una preparazione che ci permette di prevenire e di soccorrere eventuali disagi, eventuali pericoli, noi siamo pronti a dare il meglio. Per noi non è un dovere ma un piacere. L'iniziativa parte in via sperimentale con la mostra di Andy Warhol al Pan. Da lunedì invece i giovani accompagnatori si fermeranno al porto, alla stazione, ai decumani e lungo i percorsi del maggio dei monumenti.